In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Fisioterapia, l'Ordine Interprovinciale dei Fisioterapisti di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, preseduto da Domenico Contino, in collaborazione con tutti gli Ordini Territoriali di Fisioterapia della Sicilia e con l'Associazione Italiana di Fisioterapia, ha organizzato il primo di una serie di eventi informativi e celebrativi programmati su tutto il territorio regionale. Questo evento, dal titolo La Fisioterapia in tutti i luoghi di vita, si è svolto a Caltanissetta nella piazza Falcone Borsellino. L'obiettivo è quello di informare i cittadini del contributo fondamentale che la fisioterapia e il fisioterapista forniscono per consentire alle persone con limitazioni temporanee o permanenti delle funzioni motorie di migliorare il loro livello di partecipazione nei differenti contesti di vita, con un'attenzione specifica su alcune aree specialistiche di intervento riabilitativo, ad esempio nell'invecchiamento, nelle neuroscienze, nei casi di amputazioni e nell'età evolutiva. La fisioterapia può avere scopo preventivo, curativo e riabilitativo. Grazie alla manipolazione dei professionisti e dagli specifici trattamenti, è in grado di migliorare e in alcuni casi risolvere molte patologie. Lo scopo è quello di permettere il recupero di funzionalità motorie nei pazienti affetti da patologie o disfunzioni in ambito muscolo-scheletrico e neurologico. Ormai si ricorre sempre di più agli effetti benefici della fisioterapia, anche perché opera una rieducazione motoria che utilizza mezzi fisici come la ginnastica o il massaggio, senza farmaci. L'Ordine dei fisioterapisti si propone di promuovere e rilanciare in Sicilia anche l'importanza crescente della fisioterapia nell'ambito della cronicità, della fragilità, della non autosufficienza e della disabilità. È la centralità della fisioterapia in ogni momento e il luogo della vita, dall'età scolare ed evolutiva alla terza età, per gli sportivi, nella fase post-operatoria, ponendo l'attenzione su una disciplina sanitaria che oggi più che mai ha una notevole rilevanza sociale, poiché mira a perseguire al paziente il recupero del benessere non solo fisico, ma anche psicologico, emozionale e sociale.